Sulla nostra regione avremo condizioni di tempo alternate in questo fine settimana. Nella giornata di sabato tempo abbastanza buono, con cielo in prevalenza poco nuvoloso sulla regione, un po' più di umidità alla sera con possibile formazione di foschie sulla pianura e sulla costa, appunto nelle ore serali. Domenica si avvicinerà velocemente una depressione, probabilmente il mattino ancora di primo mattino una certa variabilità, poi aumenta la nuvolosità su tutta la regione, saranno possibili in giornata domenica già delle piogge sparse, in genere deboli su pianura e costa, specie sulle zone orientali, in serata nella notte peggioramento su tutta la regione, con piogge da moderate localmente abbondanti, vento da sud ovest di Beccio sostenuto sulla costa e neve in montagna, inizialmente a partire dagli 800-1000 metri, poi in calo nella notte e al mattino di lunedì fino a 400-500 metri di quota circa. Lunedì poi questo fronte se ne va via veloce, arrivano correnti settentrionali in montagna, schiarite su tutta la regione, aria più secca e poi probabilmente anche gran parte della prossima settimana, tempo stabile, un po' più fresco, ma con atmosfera secca.